Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggio e mi trovo a bordo di Costa Smeralda. Adesso sono sul Ponte Otto e vi farò vedere uno dei molti ristoranti tematici a bordo. Questo ristorante si chiama Teppanyaki. Teppa vuol dire griglia. Offre dei menu di carne e pesce grigliati. Vi faccio vedere uno show cooking. Gli chef fanno delle approfazie mentre cucinano. Vediamo. Gli chef fanno delle specie griglia. Spero vi sia piaciuto e vi aspetto a bordo di Costa Smeralda. Ciao!